Buongiorno Sì Dove è? Mandamela Mandamela Via Mela Chi è la nostra storia? Allora sai com'è? Arrivarono i primi e i grandi giù Trovarono la musica di giù La musica di giù La musica di giù Dalla musica degli africani, dell'apprendazione, no? Allora, adesso il loro grosso era una cosa proprio perfetta. Arriviamo in un'unità molto forte. Da lì la fusione tra... Infatti, tu non visto il gesto di un musico ciliano? Sì, sì. Nasce il musico ciliano. Il musico ciliano è quella popolare del regno. Sì, sì, sì. Tra l'altro, prima. Poi dopo andiamo a fare il blues, il rock e il rose. Tu segui assieme il rock e il rock e il rose, la musica banca, l'ultima musica. La musica è la cultura romantica. Perché prima, la cultura è la musica romantica. C'era... Nasce con una sorta di strumenti, delle percessioni che si vengono, la grande, dei tamburi e tutto quello. La musica è la popolare. Ma grazie a che cosa? Grazie al fatto che con i programmi di Natto, la musica romantica è stata scritta e catalogata per musica santa. Come le vorresti? Un anello è la musica romantica. Scusa, è dato che al punto terminale, la musica romantica è nata in movimento e sta morendo a un orto. Quindi quando faccio questo, non dico che, il blues mi sarebbe capitato. Oggi siamo in popolare di provincia di una regione. e ci fanno affamati. E ci fanno affamati. Ma l'ultima che abbiamo fatto la petizione, ci hanno fatto pure il palazzo Carazzo, passando a venire i giorni. C'è un ruolo, il ruolo e il palazzo c'era un ruolo. E non vuol dire essere nostalgico. L'Italia è morta, è l'implosione. L'Italia non esiste più. È l'implosione. No, però si stende tue. Il video è la testa. A chi ha fatto la testa. Napoli sta cominciando a fare i primi sbagliati. Nel video è la strada. E se metto con il ruolo, ..e lo sbaglio la semaglia. Se metto con la gente, è venuto a fare la prima stanza. E' venuto... Questo qua non lo faccio più andare allo Stato, non lo faccio più andare allo Stato e poi ce l'ho andato a fare l'altro. Io faccio i termini di congiunti, faccio una commemorazione dei nostri 277 milioni ai giorni, faccio una commemorazione con l'azzo dell'azzo 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 dell'azzo. Non lo faccio più andare all'azzo dell'azzo 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 dell'azzo. Non lo faccio più andare all'azzo dell'azzo 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 dell'azzo. Non lo faccio più andare allo stesso. Non lo faccio più andare allo stesso. Non lo faccio più andare allo stesso. E loro lo sanno. Tutti in un paese oggi sono asfaltati, stanno improvziosi. Stanno a fare l'azzo dell'azzo 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 dell ma sei una pulitana, Ducato, Isolo e una pulitana tra l'altro gli italiani chiamano loro perché l'italia nasce con dei modi di Pagliotti in Calabria qui sopra ve lo avevo chiamato Italia, Cattina, Cattina, Catana però non si stia proprio perché non si tratta perché poi quando tu vuoi costruire se tu hai imparato bene a fare il ricettore ma se tu non hai imparato Pagli, fai il muro sotto quando tu invece cominciai a tenere la tua forza io sono un grusso io sono portatore della città che il mondo oggi si nutre con la città che abbiamo fatto noi e continua a fare il muro che cazzo lo so fare bene e loro ti mettono in grusso è una storia che abbiamo fatto da 1500 anni e poi dovremmo mettere pure la storia dei sannieri, degli ostri c'era un attività in Europa prima del nuovo giro che era un attività di l'Italia che era un attività di l'Italia Napoli sarà a peggio ma noi siamo tutti in grusso perché la costruzione che è stata in grusso è una stessa che non è un'attività ma noi si non ha un'attività ma noi siamo tutti in grusso che non è una stessa che era un attività e che non è un attività che c'era un attività e che non si può fare Grazie a tutti.